Ultimi allenamenti del 2014, Mattei, bello ripartire dal primo posto in classifica, era una sensazione che qui a Trento mancava da quasi due anni e ritrovarla assieme a te penso sia ancora meglio. Ma io sono molto molto contento, è stata una bellissima sorpresa, soprattutto nella vigilia del Capodanno, quindi grande regalo per noi stessi e anche una bella responsabilità. C'è un gusto diverso rispetto ai primati che Trento conquistava qualche anno fa, con una squadra probabilmente diversa anche da parte tua? No, è sempre un bel punto in mezza stagione, io sono contentissimo, ovviamente per adesso questo non vuol dire niente, però comunque siamo contenti della classifica. Che anno è stato per te? Mi riferisco anche alla prima parte magari di anno dove hai giocato con Ancara, hai vinto tanto, adesso stai provando a rivincere con Trento? È stato un anno abbastanza bello, con tante emozioni, hai detto tu, in Turchia abbiamo vinto e abbiamo fatto parecchio, contentissimo dei risultati, adesso sono anche molto contento che sono tornato a Trento e facciamo anche un buon lavoro, però è importante come finiamo quello del lavoro. Già nel 2015, subito pronti via, ci saranno subito tanti impegni, Padova la prima gara del 2015, poi il quarto di finale Coppa Italia e poi si spera anche la Final Four di Coppa Italia, quella però non è certa. Partiamo sempre carichi di tante partite e tanti impegni, quello però lo sapevamo quindi non è una sorpresa, ovviamente dobbiamo subito essere al nostro meglio perché le partite che ci arrivano non solo che sono importanti ma anche contro avversari tosti, quindi dobbiamo essere pronti ad affrontarli. Di solito si fanno sempre dei proclami ad inizio anno, hanno dei buoni pensieri, tu cosa ti senti di dire ai tifosi o in generale alla Palavolo? No, io vorrei soltanto augurare a tutti buona salute e buona fortuna per l'anno nuovo.